buonasera buonasera cari concittadini stasera vi devo dire un po di cose importanti sono a casa sono un po stanco si vuole di caldo oggi la temperatura altissima oggi una bellissima bellissima giornata nella nostra reggio povera reggio così scusate che qua mi arrivano telefonate un attimino solo tolgo vi dicevo sono giornate molto intense molto calde la giornata bellissima già reggio calabria ma la tensione a reggio si taglia con il col si può tagliare con il coltello perché sono giornate molto molto difficile per la nostra città io volevo condividere con voi questi momenti difficili io ve l'ho detto ve lo ripeto sono un soldato semi sento un soldato semplice dell'esercito di reggio 743 avanti cristo e ringrazio tutti i soldati che hanno che stanno combattendo insieme a me io insieme a loro questa grande battaglia di giustizia ancora ringrazio tutti coloro che mi hanno votato tutti coloro che mi hanno fatto votare siamo stati la seconda regione nel nostro partito dopo dopo l'umbria dove c'è appunto bandecchi e la seconda provincia dopo terni quindi abbiamo fatto un lavoro anche se di fretta un lavoro eccezionale e il cuore di questa azione parte da reggi il cuore di questa rivoluzione parte da reggio con rivoluzione reggio e io ho voluto aderire a questo partito di bandecchi perché credo in questo questo leader che non vuole essere chiamato leader e fa bene perché vuole essere chiamato servitore e fa benissimo credo che bandecchi sia una persona veramente eccezionale tu la conosco più mi rendo conto che con lui si possono fare veramente possiamo fare le rivoluzioni chi fa la rivoluzione non si sa come finisce no io sono convinto da cristiano quale sono che la vita deve essere vissuta in maniera compiuta le cose devono fare se sono giuste e non si devono fare sono sbagliate non si devono fare mai le cose per interessi personali perché chi fa le cose per interessi personali sicuramente non sta facendo il bene della collettività è legittimo ovviamente l'interesse personale ma sicuramente non fa il bene della collettività e vi dicevo dopo quello che è successo dopo quello che è successo con queste indagini il sindaco un membro del consiglio comunale e e pennelli del consiglio regionale di fratelli italia due del pd e uno di fratelli italia diciamo il clima reggio calabria è molto molto pesante viviamo secondo me uno dei momenti peggiori della nostra storia perché abbiamo avuto il commissariamento è ingiusto quello di arena io ero in quell'amministrazione è un castellamento politico senza nessuno straccio perché questa legge va rifatta una legge balorda 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 lo dico tre volte una legge balorda perché e nessuno la vuole rifare non la vuole non vogliono mettere mano una legge che non ha senso così come è fatta perché la legge va fatta bene cioè si deve estirpare il tumore là dove c'è non bisogna buttare il bambino dalla finestra un'amministrazione intera eletta democraticamente il commissariamento è sempre un disastro pazzesco quindi i politici non vogliono mettere mano a questa legge perché non gliene frega niente a nessuno perché frequentemente i commissariamenti sono qua nella zona di reggio la provincia di reggio la calabria qualche qualche in sicilia quindi la politica quella diciamo che conta non gliene frega niente a mettere mano a una legge che va cambiata e quindi in questo momento noi abbiamo abbiamo avuto di questi 18 mesi di commissariamento con arena profondamente ingiusti profondamente ingiusti che hanno raso al suolo la città il commissariamento è una iattura fortissima per la città poi abbiamo avuto dieci anni di falcomata il peggiore sindaco della storia di reggio calabria che ha raso al suolo quello che c'era era rimasto dopo 18 mesi di commissariamento ingiusto e dopo l'azzeramento di una classe politica ora tutto potevamo pensare tutti stavamo lavorando per il posto falcomata e a un certo punto c'è diciamo il serio rischio che venga questa amministrazione commissarata di nuovo perché io credo che i commissari prefettizi quindi la commissione diciamo d'accesso arriverà ora la devono comporre ovviamente c'è un paio di giorni una settimana di giorni non lo so due giorni dovranno comporla questa verrà ovviamente ci sono fatti particolarmente gravi non solo i broghi elettorali ma anche di collusione con l'andrangheta per questioni elettorali quindi diciamo io non lo so ma diciamo è possibile è probabile probabilissimo il commissariamento quindi una sciacura diciamo inaudita una cosa inaudita voi non avete idea che cosa può significare il commissariamento del commissariamento rispetto a falcomandare il sindaco più scarso della storia diciamo vale mille falcomandare il commissariamento il valore della capacità di amministrare una città è 5 10 15 20 rispetto a mille del sindaco più scarso della storia quindi c'è questo serio rischio e quest'aria si respira in ogni angolo della città dove quel poco di speranza che avevamo e che i cittadini avevano e che io ho cercato nel mio piccolo di instillare a tutti i cittadini a cui ho detto e continuo a dire non vi scoraggiate ma trovate la forza di reagire per salvare la nostra città lo dobbiamo fare insieme non lo potrà fare il soldato semplice massimo ripievi non lo potrà fare non lo potete fare voi in maniera diciamo autonoma quindi tutta la città deve reagire io sono contentissimo che ci siano stati dei fermenti civici io voi lo sapete io non sono il polo civico non mi chiamate polo civico io sono faccio ho costruito il polo rivoluzionario non civico il mio obiettivo è dare voce a chi non ce l'ha ad andare a dare voce al 95 per cento delle persone che non contano nulla che vanno a votare alcuni altri non vanno neanche a votare per quelli che poi utilizzeranno il loro voto per farsi gli affari loro rigorosamente quindi l'obiettivo dei rivoluzionari di reggio è dare voce agli ultimi dare voce alle persone normali gli ultimi non sono soltanto le persone più bisognose certamente prima ci sono loro le persone più bisognose di cui non gliene frega niente a nessuno gli ultimi sono anche quelli le categorie professionali più variegate no e quelli il medico che magari è capace potrebbe fare tante cose non gliele fa fare nessuno perché c'è il medico poi raccomandato quel 3 4 per cento dei medici gli avvocati gli architetti dei professori degli operai che sono fuori dai circuiti del potere no non contano niente ma tutti gli chiedono il voto per far contare il collega che andrà a prendersi l'incarico andrà a farà sistemerà il figlio eccetera eccetera quindi capite che c'è una situazione che noi reggio dobbiamo ribaltare e quel purtroppo io vedo molte nubi in questo momento nubi nere sopra di noi perché noi stiamo subendo ancora una volta il rischio serissimo ma veramente la percentuale altissimissimissima di commissariamento voi immaginate che sciagura sarebbe quindi noi siamo una città diciamo veramente ce ne stanno capitando di tutti i colori vedete anche nello sport no abbiamo avuto l'occasione di prendere un miliardario abbiamo preso uno che insomma è è mille volte meno ricco di quello che per affidare il nostro gioiello alla regina la persona per bene io ho avuto modo di conoscere ve l'ho detto sono ottimi amministratori aveva ragione quando diceva io devo dire la verità quando diceva in seno al consiglio comunale anche se ha sbagliato a dire dopo di me non parla nessuno però ha detto io mi sento un padre di famiglia cercherò con quelli soldi che ho di fare il massimo ed è vero io ho visto lo sforzo con pochi soldi di fare il massimo di ottenere il massimo risultato ma io ho detto è possibile nonostante questa grandissima qualità di ballarino della sua società di sapere gestire il poco che hanno ma è possibile lasciare un miliardario è successo anche questo che giocata è successa anche questa cosa che abbiamo lasciato un miliardario che la squadra pronta per vincere per stravincere il campionato e abbiamo preso per volontà di brunetti di falcomata abbiamo preso una società diciamo di lunga meno forte economicamente capite che c'è c'è qualcosa veramente che non va nella nostra città c'è qualcosa di profondo che non va dobbiamo non solo scuotere le coscienze le nostre coscienze dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare cari concittadini perché non è facile immaginare un futuro per noi per i nostri figli io guardate io sono cristiano e credo in gesù cristo e credo nella resurrezione credo che quando morirò lo stabilirà il signore quando lascerò questo corpo io sono certo al mille per mille che avrò il corpo della resurrezione come quello di gesù e quindi vivrò per sempre con lui in un paradiso meraviglioso non ho nessun problema sto vivendo su questa terra in funzione del tesoro celeste e quello che faccio faccio solo in vista di questo però mi rendo conto che tantissime persone sono senza speranza e quindi noi cristiani noi uomini di buona volontà noi reggini che abbiamo a cuore le sorti della nostra città dobbiamo fare di tutto per costruire il bene pubblico no non possiamo pensare solo agli affari nostri dobbiamo costruire insieme il bene pubblico lo dobbiamo fare partendo dalla nostra meravigliosa città reggio con la h 743 avanti cristo una città meravigliosa però gravemente martoriata anche per responsabilità nostra attenzione per i concittadini perché noi abbiamo la responsabilità della nostra città non possiamo piangerci addosso ripeto io sono molto contento che sono nate queste questi fermenti civici a reggio calabria sono contento perché i partiti romani devono sapere che c'è un fermento civico forte e non possono decidere le sorti della nostra città a roma non lo possono fare 5 6 7 8 giorni prima della presentazione delle liste imponendoci un nome perché poi tutti quelli che fanno parte della coalizione non possono più tornare indietro ecco perché ce lo dicono all'ultimo non possono fare copie incolla di programmi e propinarli alla gente tipo pillole forzate che non hanno copie incolla che non hanno un significato non ci possono calare dall'alto un personaggio giacca e cravatta una donna in taier che viene imposta alle segreterie romane senza essere conosciuta io dico che i candidati al sindaco devono essere straconosciuti dalla città devono essere vagliati i cittadini devono avere il tempo di vagliare i loro candidati il sindaco conta tantissimo nell'amministrazione comunale e quindi deve essere straconosciuto dai cittadini perché deve essere valutato fino in fondo dai cittadini i cittadini devono sapere che andrà a condurre la città e che avrà la maggiore responsabilità insieme a tutta l'amministrazione non può non si deve finire il tempo che ci vengono calati questi personaggi magari terzi no presi dalla società civile vedete ti calano il personaggio all'ultimo secondo che non lo conosce nessuno però viene imposto dai partiti c'è la forza della lista dei partiti e poi uno si trova un sindaco che conta 100 rispetto a tutti gli altri che non ti fa neanche entrare nella sua stanza e non ha l'esigenza non ha il bisogno di parlare con i cittadini io sapete che voglio fare ve l'ho già detto io voglio fare dieci liste li sto preparando 320 persone coraggiosi e liberi e forti e chi non vincerà chi non diventerà consigliere comunale farà parte di un'assemblea di governo di cui il sindaco è responsabile e garante di questo patto tra chi viene eletto e chi non viene eletto quindi una cosa unica una novità unica per governare la città insieme a tutti quelli che hanno messo la faccia che devono andare sui territori a governare la città capite noi io mentre sto diciamo insieme a tutti i soldati di reggio sto preparando questa grande battaglia purtroppo c'è lo spettro del commissariamento ed è un guaio enorme cari concittadini per questo abbiamo chiesto con una lettera con lamberti con claus davi abbiamo chiesto al sindaco molto garbatamente di dimettersi perché c'è un rischio minore non è che si annulla il rischio però c'è un rischio minore perché ovviamente chi deve tenere conto terrà conto del fatto che il sindaco si è dimesso per il bene della città abbiamo chiesto a gran voce ma l'abbiamo chiesto veramente molto molto in maniera molto eh come vi devo dire in maniera molto garbata perché poi vedete ci sono ci sono ci sono queste storie io sono garantista fino alla fine ricordatevi sempre che a me mi trovate sempre alla parte dei garantisti non sarò mai quello che punta il dito solo perché c'è un indagine perché una cosa da malvaggi chi lo fa è un malvagio 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 però ci sono delle cose pubbliche io l'ho detto anche al sindaco durante l'ultimo consiglio comunale a proposito apre chiudo parentesi non è vero come hanno detto come ha detto qualche organo di informazione che si è votato una mozione e il consiglio comunale ha votato negativamente nei confronti diciamo della volontà di fare il ponte non è assolutamente vero le due emozioni la mia quella che è favorevole e quella di pazzano che non è favorevole al ponte non sono state votate saranno votate un altro consiglio è vero che la maggior parte delle associazioni che erano quelle di diciamo vicino a pazzano che si sono ben organizzate sono venuti in consiglio e hanno parlato e hanno fatto interventi contro il ponte mentre quattro organizzazioni che erano pro ponte una minoranza rispetto a questa maggioranza ma è stato solo un fatto di organizzazione perché chi era contrario si è meglio organizzato di quelli che sono a favore vi posso assicurare che a reggio più dell'ottanta per cento dei regini sono a favore del ponte hanno capito che un'opera straordinaria che porterà solo bene alla nostra città chiudo parentesi chiudo parentesi vi dicevo ho detto al sindaco che io ho chiesto le dimissioni sue non perché sono giustizialista ma perché credo che il suo ruolo oggi la responsabilità di portare la città al commissariamento certo per mafia per 18 mesi in questo momento che c'è la gestione dei soldi del pnrr tantissimi alti soldi che si devono investire lavori che si devono fare e lavori che si devono seguire non solo il sindaco ma tutta l'amministrazione è una iattura enorme per questo abbiamo chiesto al sindaco di dimettersi per andare nel più breve tempo possibile a elezioni nel frattempo ci sarà comunque la conclusione di queste indagini la magistratura deciderà quello che si deve fare e comunque c'è meno rischio non è annullato il rischio ma c'è meno rischio di commissariamento ecco ci sono espressi tantissimi altri rispetto a questa cosa io sono convinto che veramente stiamo passando povera reggio veramente perché stiamo passando un momento veramente durissimoissimo stiamo avendo veramente questa cosa è un'altra tegola sulla città che non veramente nessuno se la poteva aspettare perché non avevamo già abbondantemente toccato il fondo quindi cari concittadini noi ci abbiamo rialzare insieme lo dobbiamo fare con delle proposte politiche e la politica che governa le cose la politica che governa le cose possiamo fare una manifestazione per esempio pubblica organizzata da tutti i movimenti della rivoluzione reggio da chi vuole il bene della città che non deve essere contro qualcuno ma deve essere a favore della città dove si va a chiedere al sindaco gentilmente se si può dimettere per permettere per dare maggiore possibilità alla nostra città di non avere il commissariamento perché io ho sentito qualche commento oggi di qualche associazione di qualche partito ho letto qualcosa non mi ricordo veramente chi l'ha scritto dice il mare minore e il commissariamento guardate tra il commissariamento e falcomatà è centomila volte meglio falcomatà ecco questa cosa bisogna come dire il problema di falcomatà se lui si rimette ci sono più altre possibilità che non avvenga il commissariamento ma non è certo ma ci sono più altre possibilità perché vi posso assicurare che peggio del commissariamento non esiste per una città specialmente di una città grande covereggio specialmente se i commissari andranno per la prima volta anche nell'altro ente perché c'è anche questa novità questa volta i commissari andranno anche a commissare penso l'altro ente che fa l'altro ente il posto di falcomatà chi lo prende dall'altra parte credo è credo è che si si dovrà anche commissariare la città metropolitana credo non so se si può commissare una cosa e non se ne commissare un'altra forse perché un altro ente non lo so questo non ve lo so dire però credo che ci c'è un alto rischio comunque anche la se non si commissaria anche la c'è una temporanea età di per esempio di versace che dovrà fare di nuovo il sindaco che secondo me non produce alcun bene per la città capite tutto subiugge no è tutto sospeso abbiamo una città sospesa per due anni e mezzo tre anni perché poi alla fine passeranno due anni e mezzo prima di andare al voto c'è una tragedia di dimensioni proprio incalcolabili quindi cari concittadini come possiamo noi reagire a questa cosa ecco io vi do il mio parere il mio modestissimo parere noi dobbiamo prima prima cosa dobbiamo reagire con proposte politiche politiche dobbiamo spingere affinché si vada per la direzione del bene della città ma non è il problema chi ve lo riconosce no io non è che mi preoccupo che ho combattuto 6-7 anni per l'aeroporto e poi Ryanair l'ha fatto venire Forza Italia e poi tutti hanno ringraziato Forza Italia e non hanno ringraziato Massimo Ripie per chi con Massimo Ripie ha combattuto pazienza non è il problema di chi ringrazia o di chi riconosce elettoralmente le battaglie vanno fatte sempre e comunque per il bene della città perché magari non si ricorderà nessuno ma tu hai fatto il bene della città Gesù Cristo in cui io credo si ricorda del bene che facciamo per i concittadini io lo so che alla fine uno combatte 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 poi c'è quello che risolve il problema ripeto si prende i medi ma non fa niente l'importante è che oggi all'aeroporto ci sono persone ci sono c'è il movimento ci sono aerei ci sono dei turisti grazie a Dio ve l'ho detto è una soluzione tampone ma è stata una soluzione vuol dire che le battaglie che abbiamo fatto le tantissime battaglie le ore ore giornate intere passate all'aeroporto andate alla mezzia per combattere per la nostra unità sono servite a qualcosa hanno costretto l'organo decisore chi in questo momento governava a fare qualcosa e l'hanno fatta questa cosa è importante per i concittadini quindi non perdiamo la speranza io vi voglio lasciare stasera con questa riflessione io sono molto triste in questo momento perché vedo veramente una situazione molto molto complicata molto complicata vedo nelle stanze si respira del comune si respira un'area molto pesante non si sa che fine faremo non si sa che fine farà l'amministrazione io vi dico quello che vorrei io vorrei che questa amministrazione avesse si ponesse diciamo fine a questa amministrazione per cercare di stimolare il governo che verrà la commissione d'accesso lo stesso ma il governo visto che questa amministrazione non c'è più e più non ci sono i protagonisti purtroppo di questa vicenda ci sono possibilità maggiori che non commissariano per 18 anni si andrà a votare alla prima data utile ci sarà una sospensione dannosa comunque per un periodo ovviamente perché essendoci la dimissione di Falcomadà c'è un periodo comunque di commissariamento ma è di gran lunga inferiore ai tre anni quasi tre anni che secondo me passeranno prima di andare a votare quindi io vi lascio con questa riflessione e vi dico concludo dicendovi quello che sto facendo io io sto continuando a fare liste civiche e trovare soldati di reggio che si candidino con me quando si voterà sto continuando a costruire alternativa popolare a reggio in calabria perché sono convinto che avere l'appoggio di un partito nazionale che secondo me si svilupperà moltissimo in questi anni è fondamentale per la città e sto cercando di stimolare tutti i cittadini a non vendersi per un piatto di denticchie per un voto per un voto che viene a volte o non dato o buttato al primo che viene ecco cercate di come dire di partecipare attivamente alla vita politica e alla resurrezione della nostra città secondo me noi con l'aiuto di Dio ce la faremo e vedremo una reggio che finalmente sorriderà e dobbiamo però anche stimolare la deputazione non è che lo posso dire a Tilde Minasi la carta liscia di Tilde Minasi lo potrei dire a Ciccio Canizzato che comunque è uno cooperativo non lo posso dire a Irto che non esiste non c'è in città non si vede si vede solo in qualche riunione qualche convegno è sempre diciamo molto lontano dei problemi della città lo dico a Francesco Canizzato ecco è l'unico che opera e lavora per la città allora Francesco bisogna mettere mano alla legge sui commissariamenti delle città per mafia questa legge non è assolutamente una legge che può reggere perché distrugge totalmente quello che è rimasto nei nostri territori è una legge iniqua ingiusta se c'è un problema se ne deve andare chi ha il problema c'è un assessore un consigliere comunale un dirigente funzionale se ne vanno loro non se ne va si butta tutta l'amministrazione tutti quelli che sono conniventi perché se vale il principio che vale per i comuni deve valere per la regione deve valere per il Parlamento per ogni singolo deputato e senatore deve valere per i prefetti per i questori per gli ufficiali per i sotto ufficiali per tutti cioè se questo principio lo ritengono giusto questo stesso principio deve essere applicato a tutti a tutto lo Stato e il metastato diciamo chiamiamolo così tutti quelli che hanno ruoli importanti della magistratura tutti quanti perché se no è una cosa oltrevo ma siccome non è corretto neanche mettere a loro dare questo peso a loro bisogna togliere quelli che sono diciamo dove c'è la cancrena si toglie la cancrena non si butta tutto il corpo così come si fa con un corpo quanto è sofferente quindi spero che diciamo Francesco e gli altri deputati diciamo la nostra deputazione vanno un fatto che non può fare un solo deputato deve essere stimolato da uno un gruppo deve essere fatto da tutta la maggioranza in questo momento di governo a cui non gliene frega nulla di Reggio Calabria nulla della Calabria dice un comune più e un cuore in meno meglio non abbiamo problemi di Reggio Calabria noi siamo considerati non ve lo dimenticate mai mi dole il cuore mentre ve lo dico siamo considerati qua da queste parti come topi da laboratorio dove fanno gli esperimenti quindi se non reagiamo noi e non tiriamo noi il grano verso la nostra parte non lo farà mai nessuno ok bene cari concittadini ci vediamo domani vi raccomando non perdete la speranza e cercate di essere sempre ottimisti e operativi per il bene della nostra terra arrivederci e buona serata grazie a tutti Grazie a tutti